In un attore fari con polimero, non c'è bisogno né di smontare i fari, né di mascherare l'auto per eseguire la riparazione. Primo passaggio. Puliamo e decontaminiamo la superficie. La carteggiatura è il passaggio più importante del processo. Dobbiamo togliere completamente tutto il trasparente ingiallito. Si raccomanda l'uso delle grane d'abrasivo che sono nel kit. Aggiungiamo da 80 a 100 ml di polimero liquido. Posizioniamo l'ugello nella direzione opposta all'impugnatura e chiudiamo. Colleghiamo e lasciamo riscaldare il polimero liquido per 4-5 minuti fino a quando inizia ad uscire il vapore. Iniziamo l'applicazione senza staccare il vaporizzatore dalla presa di corrente. La vaporizzazione del polimero viene avviata dalla base del faro alla parte superiore, a una distanza di circa 1 cm. Il polimero liquido evapora e aderisce al faro creando una nuova protezione, rinnovando il suo aspetto e le sue caratteristiche originali. Il risultato è immediato, senza attendere il tempo di asciugatura. Stacchiamo immediatamente il vaporizzatore e lo lasciamo raffreddare. Versiamo il liquido avanzato nella bottiglia per il riutilizzo. Una soluzione rapida ed efficiente. E l'auto è pronta per essere consegnata.